Sottosegretario della cultura Lucia Bergonzoni e Michele Paes della Lega, siamo qui al Palazzo dei Congressi ad Alghero. Una visita, o anche meglio un blitz, proprio per verificare la situazione che già più volte è stata messa in luce. Una situazione ovviamente negativa e di decadenza, ma sentiamo dallo stesso sottosegretario le impressioni che ha avuto da questa visita. Sicuramente sono impressioni più che pessime. Me ne avevano già parlato, non pensavo assolutamente però di trovare una situazione del genere, uno spreco di denaro pubblico che è al limite della follia. Uno entra dentro, addirittura ci sono le sedie delle sale, quelle dei congressi, ancora con il cielo fan sopra sicuramente, va recuperata. Sicuramente questo è il posto ideale per poter promuovere anche la Sardegna. Basti vedere che c'è il mare proprio di fronte alla struttura, un bellissimo posto per poter fare concerti. Credo che sia una struttura che comunque può essere sia usata per promuovere il territorio, sia anche per una redditività, perché veramente ha tantissimi spazi. Uno su tutti, se uno pensa anche a quello esterno, sarebbe bello fare delle mostre magari temporanee, anche di arte contemporanea, su cui il Ministero sta puntando tanto. E credo che comunque con un cambio in regione, finalmente questo scempio non lo vedremo più, e vedremo recuperata una parte fondamentale comunque di una struttura che è in una città che non merita assolutamente questo. Michele Paese, avete già fatto una vostra proposta, ce ne puoi parlare di nuovo? Sì, molto sinteticamente noi vorremmo che il Palazzo dei Congressi di Alghero passasse da emblema di spreco, denaro pubblico ad ambasciate del turismo e sardo. Questo diventerà, e questo è un impegno della Lega e del governatore Cristian Solinas, candidato governatore, ma che noi siamo sicuri sarà il prossimo governatore della regione Sardegna, diventerà appunto il Palazzo del Turismo della Sardegna, dove la Sardegna verrà promossa in tutte le sue peculiarità culturali, agroalimentari, turistiche. E qua, in questo palazzo, la Sardegna verrà venduta e presentata al continente, all'Europa e al mondo. Quindi sarà uno strumento efficacissimo per rilanciare tutto il territorio del nord-ovest, l'aeroporto, il porto di Porto Torres e il Sassarese, che oggi vive una situazione di disastro economico in cui è stata messa dal governo del PD a guida a Pigliaru.